Uno dei problemi di una cassa di assistenza sanitaria pura come ASSIDIM è quella di poter trasferire sul pubblico e sul mercato il suo valore distintivo. Quindi dobbiamo puntare su alcuni driver di valore che siano tali da convincere la nostra diversità e dare quindi un'esperienza di fruizione dei nostri servizi di livello. Il primo driver di valore di ASSIDIM è il suo brand, un brand storico che ha un'origine che l'anno prossimo ci porta a festeggiare 40 anni di presenza sul mercato, che è rafforzato in termini di autorevolezza e solidità da una partnership indissolubile con il nostro broker di riferimento che da sempre è Marsh, che ci garantisce quindi un forte presidio non solo di brand, ma e qua vado al secondo driver di valore, il tema dell'engineering e delle soluzioni proposte. Le soluzioni che ASSIDIM propone, cioè le soluzioni assicurative di assistenze sanitarie e di assistenze dedicate alla tutela degli infortuni, delle malattie, del long-term care, del dread disease e del caso morte, che sono i pilastri della nostra offerta, sono rafforzate da un broker che garantisce il reperimento sul mercato dei migliori provider assicurativi che confezionino le migliori soluzioni per noi. E qui arrivo al terzo driver di valore di ASSIDIM che è dato dal brand, prodotti, servizi, soluzioni, le partnership. Noi grazie al fatto di aver scelto dei partner di eccellenza come Marsh per quanto riguarda le soluzioni di reperimento di mercato, abbiamo anche trovato il modo di identificare alcuni player come Europe Assistance che ci gestiscono e ci aiutano a proporre a condizioni che non sarebbero accessibili a mercato agli stessi costi, quindi a costi ipercompetitivi, alcune cose molto innovative come per esempio le soluzioni di Digital Health relative alla MyClinic che è questa applicazione straordinaria di Digital Health che è sul mercato da pochissimo e che ASSIDIM è fiera di aver boosterizzato con la sua massa di assistiti e la suite Senior Care che è altrettanto innovativa e consente alle persone che hanno a carico la tutela e l'assistenza di figure fragili e anziane un supporto veramente qualificato di consulting e di check up a 360 gradi e su questo penso che avremo degli approfondimenti ulteriori che potremo fare. Quindi i driver di valore di ASSIDIM sono il brand, i prodotti, servizi e soluzioni, le partnership e ultimo driver, la qualità dei servizi che noi eroghiamo ai nostri assistiti che grazie alla rete MyRete che è la rete di strutture convenzionate capillari sul territorio consente l'accesso a strutture qualificate, garantite, certificate ed economiche rispetto alle altre perché selezionate a monte in modo autonomo e non vincolato da condizionamenti delle compagnie assicurative perché MyRete è una rete totalmente autonoma ed è un po' un'eccezione sulla media del mercato.